sarebbe presunto sulla parte mia dire che c'era ancora qualcosa da raccontare lo ha fatto benissimo lui per fortuna noi abbiamo testimonianza del suo lavoro e possiamo reinterpretarlo a modo nostro e una chiave latin jazz che magari probabilmente a lui sarebbe piaciuta e poi perché pensiamo che gli autori del nostro canzoniere vanno riproposti e riletti sono in qualche modo vanno a formare la nostra tradizione di riferimento e riproporli significa evitare che diventino delle figurine date le idee in un bell'armada in una bacheca ci sono pezzi a cui voi siete particolarmente legati di luciodoro? Caruso è meraviglioso ma sono tutti bellissimi quindi sarebbe un torto dire meglio questo meglio quello insomma per chi uno per chi l'altro alla fine abbiamo cercato di lavorare su tutti i brani alla pari e metterli alla pari Cattalli era anche un grande musicista? Sì sì come no è anche un grande appassionato pure del jazz quindi anche il fatto di fare le canzoni con l'apertura e l'improvvisazione questa sera sarà un bel tributo a lui tre anime differenti come si coniugano insieme? Qual è il filo conduttore? Beh a parte che tre anime differenti noi siamo tre anime abbastanza simili noi non abbiamo mai avuto tanti problemi per legare insomma c'è un legame abbastanza naturale molto rispetto ormai dopo tanti anni siamo quasi fratelli direi come è stato avvicinarsi a luciodoro? è molto semplice perché comunque lui ha scritto sempre musica bella e la musica bella che entra da sola l'uciodoro amava molto anche la potenza voi beh sì voi lo sapete meglio di me noi abbiamo partecipato l'anno scorso col trio al festival delle trenti che è dedicato a lui ripeto quello che bisogna evitare bisogna suonare la sua musica non presumere di conoscerlo facendo dietrologia oppure qualche volta facendo un culto di chi non c'è più che è inopportuno la sua musica è presente lui come tutti i grandi poeti parla ancora al pubblico di adesso anche al pubblico più giovane anche al pubblico dei nostri coetanei che merita di vederli sollecitata la propria memoria musicale il proprio amore come avete scelto nel mare magnum delle canzoni italiane i brani da portare quest'oggi la scelta è stata un po a quei brani che potevamo rivisitare di più con la nostra cultura natalio io siamo argentini e quindi abbiamo voluto latinizzarlo in qualche modo anche perché nelle chiacchiere lui si invitò una volta a un suo festival lucio a benevento e abbiamo avuto l'occasione di parlare con lui ci diceva un po la sua passione per per il sud america quindi abbiamo cercato un po di prenderlo come come gusto musicale più latino e ovviamente con l'apertura alla improvvisazione al jazz che lui amava tanto alberto la monica sesta edizione gusto jazz ecco un bilancio prima della grande serata finale siamo più che soddisfatti e orgogliosi dei risultati raggiunti considerando appunto l'affluenza di pubblico l'attenzione mediatica che il festival gusto jazz ha raggiunto sicuramente questo è dovuto in parte anche penso al programma artistico che noi abbiamo presentato quest'anno con un programma dedicato alla tromba ospitando quelli che sono i virtuosi dello strumento a pistone artisti sia di grande spessore come quello fresso flavio boltro fabrizio bosso ma anche giovani emergenti come i giovanissimi gemelli cutello no definiti da lenzo arbori gestisti italiani del futuro e poi anche la sezione gusto che si è rinnovata si è ampliata con incontri cooking show gli aperitivi in jazz quindi siamo davvero contenti e soddisfatti e poi quindi quale occasione migliore per celebrare no questo se vogliamo successo regalando al pubblico di gusto jazz un progetto così bello esclusivo importante quale quello di peppe servillo con a via girotto in atelio mangalavite l'anno che verrà canzoni di lucio dalla grazie appunto al sostegno del comune di corato e soprattutto al cofinanziamento della regione puia con puia promozione il festival gusto jazz e tra i grandi eventi della regione puia grazie